Benvenuti nel mondo degli orologi Schaen. Schaen è un marchio di orologi danese che dal 1989 produce orologi dal design minimalista ed elegante. Il nome del marchio deriva da un piccolo villaggio costiero nel nord della Danimarca, noto per la sua bellezza naturale e per il suo stile sobrio e raffinato. Gli orologi Schaen si ispirano alla natura e alla cultura danese e sono caratterizzati da linee pulite e dettagli essenziali che li rendono unici e distintivi. Gli orologi Schaen sono disponibili in diverse varianti di colore, dal classico nero e argento al più vivace oro rosa e bronzo, per soddisfare i gusti di ogni persona. La scelta dei materiali utilizzati per la produzione degli orologi Schaen è altrettanto importante, con l'uso di acciaio inossidabile, vetro minerale e cuoio pregiato che garantiscono la massima resistenza e durata nel tempo. Schaen produce orologi sia da uomo che da donna, con modelli che si adattano a ogni stile e gusto personale. Tra i modelli più famosi di Schaen vi è, l'EEN, un orologio da uomo con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle, disponibile in diverse varianti di colore. Per le donne, il modello, Anita, è uno dei preferiti, caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in maglia milanese, disponibile in diverse varianti di colore. Schaen ha collaborato con designer di fama internazionale come EI e Paul Smith, creando alcune collezioni speciali di orologi per il marchio. Queste collezioni si distinguono per il loro design innovativo e per l'utilizzo di materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile e la pelle pregiata. Gli orologi Schaen sono quindi non solo belli e funzionali, ma anche unici e distintivi, grazie alla collaborazione con designer di fama internazionale. Gli orologi Schaen sono noti per la loro alta qualità e resistenza nel tempo. Ogni orologio Schaen viene sottoposto a rigorosi controlli di qualità prima di essere messo in vendita, per garantire la massima precisione e affidabilità. Inoltre, Schaen offre una garanzia di due anni su ogni orologio venduto, per garantire la massima soddisfazione dei clienti.